La chiesa che noi frequentiamo anche se la chiesa è benedetta dal Signore ma questa fede è basata nel nostro Redentore che è Cristo Gesù Signore aiutaci Dio ci ha dato benedizioni in ogni maniera benedetto sia il Padre Dio che ci è venuti a benedire di ogni benedizione spirituale gli occhi si sono aperti e abbiamo compreso che Dio non vuole benedire semplicemente le cose gli oggetti ma soprattutto prima di tutto e più di tutto vuole benedire la nostra vita spirituale perché quando noi siamo benedetti dal Signore tutto il resto automaticamente è benedetto dal Signore nessuno può aggiungere altre benedizioni sopra quella che Dio già ha benedetto posso io vedere ancora la gloria di Dio sì fratello e sorella sì perché se noi ci manteniamo umili e sottomessi al Signore sì egli accetta i umili ma resista i superi ma fa grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.